Arrestato sessantenne in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Reggio Calabria, gli agenti delle volanti nel corso di controlli sul territorio sono stati attirati da un soggetto già noto alle forze dell'ordine che si trovava nei pressi di una bottega vinicola, il quale alla vista della pattuglia con atteggiamenti sospetti ha provato a rifugiarsi all'interno dell'esercizio commerciale cercando di disfarsi di un pacchetto di sigarette gettandolo da una finestra. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e perquisito, trovato nel suo borsello una busta di plastica trasparente con all'interno della polvere bianca e altri sette pacchetti di sigarette identici a quello gettato precedentemente dalla finestra. L'uomo è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e deferito per aver rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità.